Amiche ed amici del Barjomba, ben ritrovati insieme. Qualche giorno fa un'amica che gestisce un'attività di noleggio con conducente mi ha raccontato di non riuscire ad accedere con la sua rete Vodafone alla piattaforma dei pagamenti e curiosamente di non riuscirci dal proprio pc né in wireless né attraverso la rete LAN e nemmeno attraverso il suo cellulare con connessione dati Vodafone. E non capisse come mai tutti riuscissero addirittura ha fatto altre prove da altri pc non in casa propria che appunto erano con Vodafone e non riusciva ugualmente ad accedere mentre altre persone, io per primo, riuscivamo senza problemi. Oggi andremo a risolvere questo problema ma prima vediamo di capire dove sta la problematica. Il problema sta nei DNS di Vodafone i DNS di Vodafone vengono definiti DNS sicuri perché in qualche maniera riescono a bloccare malware e altre brutture di ogni tipo il problema è che questi DNS per chi non lo sapesse i DNS sono quegli strumenti attraverso cui un indirizzo IP viene modificato nell'indirizzo reale che noi digitiamo sul browser www.google.it altrimenti sarebbe un indirizzo IP ecco semplicemente il DNS trasforma quell'indirizzo IP in un indirizzo vero e proprio. Ovviamente i DNS sicuri di Vodafone da volte sbagliano e vedono malware quindi vedono attività sospette anche laddove non ci sono impedendo quindi l'accesso anche a siti che di malevolo non hanno nulla e no, non sto parlando di quei siti che pensate voi anche ma non solo comunque cerchiamo di capire insieme come riuscire a risolvere questa problematica per prima cosa andremo ad accedere alla nostra Vodafone Station non importa che sia la vecchia Vodafone Station la Wi-Fi 6 il principio è lo stesso andiamo a fleggare la modalità utente esperto altrimenti non riusciremo nel nostro intento e andiamo alla voce internet dopodiché nel menu a sinistra clicchiamo su DNS e clicchiamo su manuale dopodiché clicchiamo su configura il DNS per tutti i dispositivi nel nostro esempio andremo ad inserire i DNS di Google quindi inseriamo 8888 e 8844 nel secondo campo per i DNS sicuri di Google per l'IPv6 vi invito a copiare e incollare l'indirizzo che trovate in descrizione lì troverete i DNS sicuri per l'IPv6 e verrà molto più semplice fare il copia e incolla dopodiché clicchiamo su applica e per quanto riguarda la nostra connessione che sia in wireless o che sia in LAN con Vodafone abbiamo risolto il problema ma come cambiare il DNS sulla connessione dati? se ben ricordate abbiamo applicato la modifica dal router Vodafone a tutti i dispositivi quindi qualunque dispositivo si colleghi in wireless o in LAN al router Vodafone che sia la Vodafone Station o la Station 6 avrà già i DNS di Google sì ok ma questa cosa non è valida per la connessione dati Vodafone in questo caso andremo ad applicare un workaround cioè gireremo intorno al problema e lo faremo installando un'applicazione gratuita che si chiama Bloccada link in descrizione per scaricarla assolutamente gratuita Bloccada crea una VPN quindi una sorta di rete privata che va ad aggirare gli ostacoli dei DNS di Vodafone sulla rete mobile e non solo ha anche un altro vantaggio cioè blocca tutte le pubblicità invasive quindi Bloccada è a tutti gli effetti un adblocker ma sfrutteremo il fatto che crea una VPN per bloccare le pubblicità invasive proprio per andare ad aggirare i limiti dei DNS che Vodafone applica alla rete mobile l'installazione è semplicissima scarichiamo la pk andiamo a installarlo una volta che la pk sarà installato ci verrà richiesto di dare l'autorizzazione alla creazione della VPN premiamo ok e da quel momento Bloccada è già funzionante ed essendo già funzionante anche da rete mobile potremo accedere a tutti quei siti alla quale non riuscivamo ad accedere per via del DNS di Vodafone ripeto siti assolutamente leciti assolutamente normali che purtroppo il DNS vede come pericolosi vi ringrazio per avere seguito questo tutorial vi aspetto come sempre su www.ilgiomba.it ma soprattutto seguitemi su twitter twitter.com slash ilgiomba vi aspetto come sempre a tutti voi un caldo saluto ciao ciao